Carissimi amici, siamo qui al centro di accoglienza Sergio Bertoldini e voi vi ricordate sicuramente che qualche mese fa avete regalato questi bei materassi alla cinquantina di bambini che vengono accolti qua per andare a scuola, bambini con tante difficoltà, ma che ormai da qualche anno sostenete. Vorrei a nome loro dire grazie a tutta l'associazione Fendon Bikers e a tutti i benefattori e tutti i soci che in un modo o in un altro hanno contribuito ad appistare questi 20 materassi. È vero, i bambini sono un po' più di 50, ma con 20 siamo già a un buon punto. Vorrei salutare il Presidente Francesco Maglione insieme a tutta l'equip e dicendo anche davvero un grazie per questo bel regalo che fate a questi bambini. A nome loro vi dico grazie, ma anche loro vi dicono grazie con le loro proprie voci e vi salutiamo. Sono già abituati, seguiteci solo. Allora l'esame va a dire ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie! 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 Arrivederci! Arrivederci! Ciao! 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 Ecco, questo era il saluto dei bambini, vedete quanto sono contenti. Adesso portano i materassi già nei letti e spero che ci rivediamo un'altra volta per altre occasioni di gioia, di condivisione e di serenità. Grazie e alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie! 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 Grazie!